E come posso sapere che stai dalla parte giusta? Perché sono quello che ti paga. Non rimarrai deluso. Quando il tuo lavoro in Megaride sarà finito, raggiungimi alla prodo del pellegrino nella focide. Mi servirà una nave. Devo andare dal costruttore. Non so, non so. Grazie a tutti. 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 Alexios! Proprio così. Ed è pronta a solcare le onde per il capitano giusto e per il giusto prezzo. Quanto vuoi per separarti da lei? Oh, non l'abbandonerei mai per meno di centomila. Centomila? Chi possiede quella cifra? Uno che vuole comprare una nave. Credi che una barca del genere valga di meno? E se ti offrissi dell'ossidiana in cambio? Vorrei comunque centomila dracme. Ma anche se accettassi, ti servirebbe un esercito per governare una nave così grande. Siamo a Cefalonia. Cefalonia troppo a Cefalonia troppo a lungo. Pensavo che qualcuno come te potrebbe toglierlo di mezzo. Telemene, questo cos'ha a che fare con la mia barca? Sembrerebbe anche che il ciclope abbia traccato nella baia dei ladri. La sua nave, eh? Farò un salto alla baia dei ladri. Fai attenzione. Quel bastardo ha un caratteraccio. Potrei occuparmi del ciclope e appropriarmi della sua nave. Due piccioni con una fava. Sì, vediamo. Ah Ah Termo Abbiamo adesso Mom Um Attrazione L'amore Tempement Grazie a tutti. Forza! Forza! Lo cercheranno. Devo fare attenzione. Vittoria! L'ho individuato! Forza! 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 Preparati ai muri! Forza! 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 Ombra dell'Aquila La tua vita si conclude qui Si abbasso Ombra dell'Aquila 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 Grazie a tutti. 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 ma... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo... Andiamo... Grazie a tutti. quando... noi siamo pronti... aspetta... anche se fosse... grazie a tutti. dimmi... beh... Ora sei qui, perciò non è così. Addio, Marco. Tutti questi anni a lavorare fianco a fianco non potrò mai sostituirti. Beh, prima o poi mi servirà un altro assistente, ma non sarà facile. Vieni qui, dammi un abbraccio. Eh, va bene, vieni qui. Sì, vieni da me. Oh, quanto mi mancherai, Alexios. Grazie, Marco. Anche tu mi mancherai. E cosa hai in serbo per te, il futuro? Vino, naturalmente. Anche se non si sa mai quando le viti avvizziranno. Sono sempre pronto a una nuova avventura. A proposito di avventura, ho una missione per te, cara Febe. Un'avventura? Sì! Già pronta a seguire le tue orme, eh, amico mio? Pronto a salpare? Sono pronto. È ora di andare. Bene, le maree non aspettano nessuno. Andiamo. Quindi, che rotta prendiamo? In che punto del grande e meraviglioso mondo vuole andare il potente Alexios? Megaride. Megaride! Ma andremo verso la guerra. Ho un contratto per la testa di un generale. La testa di chi? Lo chiamano... Il lupo. Il lupo? Chi vuole morto Nicolao di Sparta? Nicolao di Sparta. L'oracolo ci ha parlato! Per impedire che Sparta cada, la bambina deve morire. Adesso! Non puoi lasciare che accada. Ti prego, non ci farà del male. Potrà aiutarci. Guiderà tutti noi. Fate silenzio! No! Fermi! Non puoi! Che cosa ha fatto? L'ha ucciso! Forza! Buttalo giù! Pagherà per il suo disonore! Per la vita che ha strappato! Guarda, Nicolao! Non è uno spartano, Nicolao! Non farlo! Non ascoltare! Nicolao! Non ascoltare! Non ascoltare! No! Non ascoltare! Nicolao! Nicolao! Perché? Padre! Nicolao! Fermo! Nicolao! 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 Guarda a me! Guardami, Nicolao! Non parlo! Non ascoltare! Il tuo sangue è corrotto! Sparazzati di questo veneno! Padre! No! Padre! Il mio bambino! Alexios! 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 Portami in Megaride! Ora! Ma non capisco! Di tutti i posti sotto il grande Elio, perché rischiare il collo per andare lì? Il lupo di Sparta è mio padre! Ragonda in Megaride! Grazie a tutti